Siamo al cinema con la cerimonia finale del Festival Capri Hollywood ieri sera al San Carlo di Napoli. Vediamo con Cecilia Donadio. Tutti in piedi al San Carlo per Tony Servillo, migliore attore italiano dell'anno per la giuria del Festival Capri Hollywood, protagonista di tre film premiati. Qui rido io di Mario Martone, Ariaferma di Leonardo Di Costanzo e è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, che il prossimo 8 febbraio saprà se sarà in nomination agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. C'è una cosa di cui possiamo essere fieri, che da molti anni attori, registi, sceneggiatori, produttori napoletani fanno conoscere il loro lavoro in tutto il mondo. In platea anche Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, sei premi Oscar in due. Come lo vedete Paolo Sorrentino in questo rush finale? Noi speriamo che... Speriamo tanto che ce la faccia. Noi lo voteremo sicuro. Noi sicuro, perché io l'ho amato tantissimo. E già gliel'ho detto. Ma proprio è una cosa che mi ha toccato moltissimo. In apertura del Gran Galà di Capri Hollywood, due dediche speciali, a Francesco Rosi nel centenario della nascita e alla scomparsa Lina Vermuller, che della rassegna ideata e diretta da Pascal Vicedomini era da anni presidente onorario. Lina Vermuller Lina Vermuller Lina Vermuller Lina Vermuller